Attraverso l'utilizzo di fatture false in debita e compensazioni d'imposta, due società baresi operanti nell'ambito della fabbricazione dei prodotti dell'edilizia avrebbero frodato allo Stato circa 2,3 milioni di euro. Per questo la Guardia di Finanza di Bari ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore che ammonta a quella cifra nei confronti delle due società e dei loro tre amministratori. Questi ultimi avrebbero indicato nelle previste dichiarazioni fiscali riferite agli anni di imposta 2018-2019 costi inesistenti per un importo complessivo di 3,7 milioni di euro circa relativi ad attività di ricerca e sviluppo accedendo inoltre ai crediti d'imposta. Secondo le impostazioni accusatorie, le prestazioni da un lato non avrebbero rispettato le condizioni normative necessarie per beneficiare del credito d'imposta riconosciuto alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, dall'altro le prestazioni si sarebbero rivelate inesistenti sulla base di alcune anomalie come reiterati in adempimenti fiscali, insufficienti pagamenti delle prestazioni fatturate dal Consorzio e omessa documentazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti.